Cari amici, cari friulani, friulani di qui e friulani del mondo, ben ritrovati in questa nuova tappa dei profumi, dei sapori in questo viaggio nelle osterie del nostro friulani. Questa volta siamo arrivati in un posto nelle valli del Nattisone, un locale che più romantico non si potrebbe. Pensate al nome, la Casa delle Rondini, qualcosa di così romantico, così bello, primaverile, le Rondini. Qui ci sono veramente, non è che sia inventata questa definizione, questa etichetta, questa insegna da Caterina che è la ragazza più bella, più buona, più gentile che conduce questo locale, assieme a Terry, suo marito e al figlio che l'ha già fatta nonna, un ragazzino che suonava la fisarmonica. Adesso non ci resta che entrare nella Casa delle Rondini e ci dispiace un pochino perché dobbiamo abbandonare questo panorama meraviglioso, ma dentro ci sono le delizie, ci sono i piatti tipici delle vallate del Nattisone. Ve le racconteremo fra poco. A più tardi. Eccoci, oggi ci ritroviamo nelle valli del Nattisone. L'emigrazione friulana ha radici lontane, ma sono profonde anche qua in questo bellissimo angolo delle nostre valli sopra cividale. Come ente friuli nel mondo abbiamo ritenuto in questa serie di programmi ricordare quei luoghi caratteristici dove, a cavallo fra le due guerre mondiali, l'emigrazione friulana, l'emigrazione di queste valli si è contraddistinta, spopolando di fatti questi piccoli paesi. Però in queste osterie, in questi luoghi magici, al centro dei paesi, sono rimaste ancora a mantenere le tradizioni. C'è questo recupero bellissimo dal lavandin, fa la sbruade, oppure i verzutings. Quindi ci sono queste bellissime tradizioni in questi luoghi e noi come Ente friuli nel mondo, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, delle comune di Udine, la fondazione Friuli, vogliamo ritrovare, ripercorrere, perché dare la possibilità a chi è emigrato decine e decine di anni fa, riscoprire e rivedere questi luoghi, perché siano simbolo anche del ritorno, perché li vediamo, sono aperti, rinnovati, magari con gli stessi banconi, con lo stesso gestore o magari la generazione del gestore, però sono pronti ad accogliervi e quindi vi attendono e quindi il nostro auspicio è che con le braccia aperte, quando volete, quando potrete ritornare in questi magnissimi posti, perché noi vogliamo promuovere l'intera Regione, in modo particolare, tutto questo bel Friuli e queste valli del Natigione. Il comune di Udine penso che sia più opportuno in questo momento, prima cosa, inquadrarlo dal punto di vista territoriale. Dove ci troviamo? Ci troviamo nelle valli del Natigione, è un comune di quelli totalmente montani delle valli del Natigione, ci troviamo tra un'altezza di circa 280 metri fino a 600 metri del Monte San Giovanni e 900 metri del Monte Cum, è un'area prettamente pre-Alpi, confina con la Slovenia, con il comune di Canale di Gisonzo, con il comune di San Leonardo e di Grimacco. È un comune che di fatto si distingue per la sua, come tutte le valli del Natigione per la sua difficile morfologia, che di fatto ha influenzato moltissimo su quello che è l'aspetto democrafico, di fatto che poi affronteremo anche nel nostro territorio. Ci sono 17 frazioni, un totale adesso, al momento attuale, di poco più di 300 abitanti, abbiamo avuto un picco di abitanti all'inizio degli anni 20, che poi di fatto conseguentemente alla prima immigrazione, prima della seconda guerra mondiale e poi soprattutto degli anni 50, ha caratterizzato in maniera estremamente significativa tutto il nostro territorio. Se devo immaginare dove andavano a finire queste persone qua, quando negli anni 50, insomma, soprattutto hanno incominciato ad allontanarsi, l'immigrazione tipica è stata tipicamente verso l'Australia, verso l'Australia, verso gli Stati Uniti tanto, la Francia e poi soprattutto, insomma, un po' in maniera comune rispetto a tutte le altre aree, anche del Friuli Veneziano Giulia, immagino l'immigrazione verso il Belgio e quindi tutto quello che comportava lavoro in miniera, eccetera. È vero che ci sono tantissime famiglie che poi di fatto si sono anche, non sono andate via solamente, diciamo, gli uomini a lavorare nelle miniere, però ci sono veramente tantissimi esempi di famiglie che si sono dedicate di fatto ai lavori domestici presso, insomma, le famiglie in questo caso della Francia piuttosto che del Belgio. Alcuni di questi sono rientrati, no? A fine degli anni 80 hanno magari fatto qualche, che qualcuno ha fatto qualche piccola ristrutturazione, diciamo, nel comune, però magari anche quelli che sono rientrati di fatto si sono stabilizzati nella pianura friulana, diciamo, non troppo nel comune di Stregna. Purtroppo adesso la curva demografica del comune di Stregna è estremamente sbilanciata verso l'anzianità, anche se tutto sommato qualche, diciamo, qualche nucleo familiare in qualche frazione che comunque ha deciso di stanziarsi anche negli ultimi 5 anni, c'è, non so, mi viene in mente comunque la frazione di Stregna, che è la frazione del capoluogo, dove di fatto negli ultimi 4-5 anni si sono stanziati 4-5 nuclei familiari nuovi, no? che comunque hanno scelto di vivere, di magari appunto di vivere a Stregna, anche qui stanno insomma le abitazioni. Il nostro è un paesaggio che si caratterizza moltissimo, insomma, per la presenza di boschi, soprattutto, che è l'elemento predominante, se vogliamo, del nostro paesaggio, ma anche di quello di cui siamo un po' più orgogliosi, anche appunto degli enormi prati che abbiamo disponibili sul nostro territorio. La valorizzazione che abbiamo promosso negli ultimi anni, rispetto appunto sia con progetti di valorizzazione del recupero di terreni incolti, ma anche di promozione della rete escursionistica, insomma, sono stati tanti, tanti notevoli. Comunque, diciamo, a parte queste azioni, se vogliamo, per la valorizzazione dell'afflusso turistico, no? Che caratterizza queste aree qua, c'è anche stato, secondo me, abbastanza notevole anche i tanti eventi che poi magari approfondirete con qualcun altro, che di fatto riusciamo a promuovere all'interno della nostra comunità, no? A me piace dire che molto spesso ci sono due tipi di eventi che organizziamo nel Comune di Estregna, quelli che sono per gli altri e quelli che sono invece per la comunità e che quindi servono soprattutto per stringere i rapporti tra le persone, comunque consolidare quelle che sono magari anche l'attività che poi serve fare attraverso il volontariato per cercare di attrarre le persone dall'esterno. Gli eventi principali che ci sono, diciamo, che sviluppiamo qui nel nostro territorio, diciamo, la famosa festa delle castagne, il Burniac, che si svolge la terza domenica di ottobre e poi ci sono, diciamo, molte ricorrenze legate, insomma, in Comune con tantissimi altri territori che sono legate alle intitolazioni delle chiese, piuttosto che, insomma, anche adesso c'è giustizio d'estate, con i fuochi di San Giovanni, però, insomma, anche ieri ci siamo trovati alla chiesa di San Giovanni, presso Triboli Inferiore, dove di fatto con i paesiani abbiamo appunto promosso un momento conviviale, ci siamo trovati anche a scampinottare in mani delle tecniche tradizionali, insomma, è molto piacevole anche vedere quando qualche emigrante rientra, magari anche in maniera temporanea nel nostro territorio, come di fatto apprezzino moltissimo queste tradizioni che tutto sommato, anche attraverso un gruppo di amici, di giovani, stiamo comunque cercando di mantenere, anzi, quello che è simpatico è che siccome non siamo poi molti, magari anche a proprio a portare avanti questo tipo di tradizione, del suono tradizionale, con la tecnica tradizionale delle campane, anche le persone degli altri paesi sono abbastanza, diciamo, ci invitano anche a spostarsi nelle loro parrocchie, nelle loro chiese per cercare, diciamo, di animare queste ricorrenze e questo qua tutto sommato ci fa abbastanza piacere, è una tecnica che abbiamo un po' affinato negli ultimi dieci anni con dei gruppi di amici che di fatto, insomma, caratterizza abbastanza il nostro territorio, purtroppo anche questo qui, la realtà anche nelle varie di Natisone, con l'invecchiamento della popolazione, anche questa tradizione, tutto sommato, è abbastanza complicata da portare avanti, però sono quelle piccole cose che di fatto ci danno soddisfazione, insomma, di vivere a Stregna. La frazione di Stregna si posa sul Monte San Paolo, il Monte San Paolo, diciamo, è la chiesa parrocchiale di Stregna, dove è presente la chiesa di San Paolo, appunto, che fa da cima un'altezza di circa, non so, sarà sui 500 metri sul livello del mare e Stregna deriva dallo sloveno sred, vuol dire metà, quindi diciamo l'origine del nome della frazione di Stregna, poi conseguentemente anche di post-Sregna, che c'è il profisso pod, deriva da sotto la metà e quindi, diciamo, il microtoponimo è di fatto origine da una posizione di tipo geografico all'interno della montagna di San Paolo. Tra qualche giorno, il 23 di giugno, si tiene la ricorrenza di San Giovanni e nelle nostre vallate dell'alta Val del Natisone, c'è la tradizione di fare il falò di San Giovanni, il cosiddetto Cries, è una tradizione molto antica che si va a, nel ricordo, si va a perdere dalla notte dei tempi, è una tradizione, diciamo, pre-cristiana, dove venivano accesi sulle sommità dei monti dei falò, proprio per far sì che la notte, il giorno del 23, si collegasse con il giorno del 24. Visto che il 23 è il giorno più lungo e la notte più corta, con il falò di San Giovanni si fa a fare un collegamento tra il 23 e il 24 di giugno. In questa giornata, in questa notte particolare, ci sono dei riti che vengono ancora oggi utilizzati, vengono ancora oggi fatti e sono dei riti un po' propiziatori e un po' magici, in un certo senso, perché è una notte un po' magica. Uno dei riti tradizionali è quello di fare i mazzetti di San Giovanni. I mazzetti di San Giovanni non sono altro che un insieme di fiori che vengono raccolti tra la notte e la mattina di San Giovanni e vengono essiccati, per poi essere essiccati, ovviamente appesi nelle cantine o nelle soffitte per essere essiccati e poi utilizzati durante l'anno. Questi fiori non sono i fiori che vedete qua, sono altri tipi di fiori, sono l'iperico, sono il cumino, sono la malva, sono tutte queste erbe che poi venivano utilizzate proprio come erbe curative per fare infusi durante l'anno. Ogni famiglia raccoglieva le proprie erbe in base alle proprie esigenze familiari e oltre a questo si facevano anche dei riti appunto propiziatori che erano fatti da questi fiori che vedete. Questa è il prapot, la felce, questa è la d'Arsta che è la barba di San Giovanni o Aruncus di Oicus e queste sono le margheritte che sono le Ivanschize, che sono i fiori di San Giovanni, le margherite gialle e le margherite bianche. Venivano diciamo così sapientemente intrecciate a croce, si metteva prima la felce, in questo modo, formando proprio una croce. Poi veniva posta la d'Arsa che è appunto la barba di San Giovanni e poi venivano aggiunte le margherite, anche queste sempre a croce. Venivano legate così a croce e poi al centro venivano inserite così come abbellimento delle rose. Ecco, questa è la croce di San Giovanni che veniva posta a fianco alla porta oppure sulla porta di casa per proteggere dalle negatività o dalle persone che volevano portare delle, non dico maledizioni, ma delle negatività all'interno della casa. Quindi questo proteggeva da tutte le cose negative e non solo questo tipo di croce si faceva, ma si faceva anche una specie di collana con le sole margherite bianche infilate in un filo assieme alle margherite gialle. E anche queste venivano poste ad ornamento della casa. Oltre a questa particolarità, la notte di San Giovanni veniva anche predetto diciamo un po' il futuro, soprattutto il futuro del tempo atmosferico. Nel senso che un tempo eravamo molto più legati alla natura, al ciclo delle stagioni eccetera. Quindi era importante conoscere e sapere quali mesi erano piovosi e quali mesi erano invece mesi un pochino più asciutti. E quindi venivano raccolte i grigli delle noci, venivano 12 grigli di noci, uno per ogni mese, veniva aggiunta dentro dell'acqua, venivano posti sul davanzare della finestra, la sera alla luce della luna del 23 sul 24 di giugno e il giorno dopo i grigli di noci che non presentavano più l'acqua erano i mesi asciutti, invece quelli che presentavano acqua sarebbero stati i mesi piovosi e quindi le persone potevano un po' assaggiare o sapere un pochino come sarebbe andato l'anno futuro, insomma, da un giugno all'altro. Si prevedeva anche il futuro perché molti prendevano un bicchiere di acqua nel quale ci ponevano il bianco d'uovo che veniva, diciamo così, cotto alla luce della luna e l'immagine, o comunque la forma che prendeva questo albume d'uovo, prevedeva, uno poteva leggere il futuro, qualcuno vedeva una barca, un veliero e quindi poteva dire che avrebbe fatto un lungo viaggio o sarebbe immigrato, visto che era proprio periodo di immigrazione a quel tempo. Un'altra usanza che adesso è andata un po' perduta è quella di utilizzare la rugiava di San Giovanni per, diciamo, curare le imperfezioni o i problemi della pelle. E quindi di solito le donne, la mattina del giorno di San Giovanni del 24, si andavano a rotolare nell'erba nude di modo da togliere queste imperfezioni che potevano essere le vitiligini, potevano essere degli eczemi o quant'altro e quindi, diciamo, avere una pelle più bella, più candida. Inoltre la rugiava di San Giovanni veniva usata anche per togliere le macchie impossibili cosiddette o per schiarire il corredo, perché una volta si faceva il corredo e le ragazze, la notte di San Giovanni, esponevano il corredo sulla terrazza, sulla finestra o sul balcone della notte di San Giovanni e queste lenzuola diventavano candide, da gialle che potevano essere, diventavano bianche candide. Oltre a questo veniva anche raccolta l'acqua di San Giovanni, della rugiada di San Giovanni, per essere utilizzata durante l'anno, sempre per problemi legati alla pelle. Ci sono anche altre tradizioni, ovviamente, del giorno di San Giovanni che però non vengono più così effettuate e quindi sono anche rimaste un po', andate un po' dimenticate. Come ad esempio quella di scoprire quale sarebbe stato il futuro sposo per le ragazze da marito. Cose che, diciamo, ormai non si usano più perché è andata un po' in disuso. Ecco, un'altra tradizione sempre qui dell'Alta Valle del Natisone riguardo la notte di San Giovanni è proprio la raccolta delle erbe per farle macerare nel vino bianco. E questo vino poi veniva benedetto il giorno di San Giovanni durante la messa e veniva utilizzato per tutte le malattie oppure per curare, assumo, le malattie conosciute e il meno conosciute. Tutto il bosco che vediamo una volta non c'era. Erano prati sfalciati da falciatori chiamati sanosiek. Questi falciavano tutti i prati per riuscire ad ottenere il fieno per gli animali, per le vacche che avevano appunto in stalla, che era la fonte di sussistenza principale per tutte le famiglie. Questi sanosiek partivano già la mattina molto presto, alle 3 di mattina, nei campi, nei prati, e cominciavano a falciare. Non è proprio una tradizione, ma è un mestiere il falciatore. È un mestiere che ormai è andato in disuso e che viene ricordato da noi qui nel comune di Stregna con una festa che organizziamo intorno alla prima metà di luglio, che è appunto la festa dei falciatori. I sanosiek, i falciatori, erano molto comuni e anche in tutte le famiglie c'erano delle persone, degli uomini soprattutto, che sapevano usare la falce e andavano a falciare i propri campi, i campi dei vicini e anche andavano proprio a dare il proprio lavoro, la propria mano d'opera per guadagnare qualcosina. Ecco, questi falciatori, comunque i sanosiek, erano anche un'unità di misura per stabilire la grandezza di un campo. Infatti si dicevano che quel campo è grande quanto 5 sanosiek, quindi 5 falciatori, che significava appunto che era talmente grande che servivano 5 falciatori per poterlo falciare nel giro di una giornata, nell'arco di una giornata. E quindi era anche un'unità di misura, per questo era importante questo termine e il falciatore in se stesso. I falciatori utilizzavano queste falci, che erano fatte su misura, utilizzando dei legni particolari e usavano anche un osunjak, che è un porta osla, che poi è la pietra che veniva usata per affilare la falce, ed era fatto questo osunjak, che era fatto di legno, che veniva posto agganciato alla cintura dei pantaloni e ogni 10-15 falciate venivano affilate di nuove con questa osla, che dovevano tenere sempre dietro. Questa tradizione ormai si è andata perduta e diciamo viene rievocata ogni anno da questa festa, la festa dei falciatori e dove vengono chiamati appunto a falciare un po' tutti, coloro che desiderano farlo, che desiderano provare e aiutati anche da chi ancora è rimasto e che sa svolgere questo antico lavoro, antico mestiere. Benvenuti a Dughe, che è una piccola borgata del comune di Stregna, nelle valli del Natisone e soprattutto benvenuti qui da noi all'agriturismo alla Casa delle Rondini che ha aperto i suoi battenti nel 2007, adesso a luglio festeggiamo i 14 anni di attività. Io sono Caterina, assieme alla mia famiglia gestisco un'azienda agricola che quindi si occupa anche di ristorazione. Fino da subito abbiamo caratterizzato la nostra offerta da un'attenzione a quella che è la cucina tipica di questi luoghi che risente parecchio della posizione in una zona di confine vicino alla Slovenia e che quindi propone volutamente dei piatti molto legati a quella che è la tradizione culinaria locale. Nello specifico oggi vi raccontiamo la supposana, che è una minestra, veniva fatta con la farina abbrustolita nel burro, che poi veniva messa nell'acqua dove per poco tempo si raccotta la malva e la mederiauca, che sarebbe l'erba matricaria, è un'erba un po' amarognola che fa parte della famiglia delle camomille, partegno per chi la vuole conoscere in italiano. Questa era una minestra molto salutare che di sovente veniva addizionata di un uovo sbattuto proprio all'interno del piatto della ciotola della minestra stessa per dargli un pochettino di energia, un momento in cui avevano bisogno comunque di rendere il piatto più sostanzioso. Accanto a questo abbiamo gli strucchi lessi, gli strucchi sono un dolce molto tipico delle Valle della Tisone assieme a quelli della versione fritti, che sono molto più conosciuti forse e che vengono anche commercializzati molto più spesso, mentre gli strucchi lessi, che sono quelli che vedete qui sul nostro piattino, li potete trovare solitamente nei locali che aderiscono all'associazione Invito a Pranzo e che li propongono proprio come un dolce che rappresenta un po' il valore aggiunto rispetto all'offerta un po' più diffusa. Gli strucchi lessi erano il dolce delle feste, erano il dolce di Natale, erano il dolce dei matrimoni, anche solitamente le spose li preparavano per la famiglia dello sposo e c'era questa particolarità per cui ogni ragazza aveva il suo modo di chiudere lo strucchio e quindi era così un segno molto particolare. E gli strucchi erano anche il dolce che, come dire, concludeva il periodo della fienagione e quindi veniva considerato come quel momento di festa in cui si preparavano gli strucchi proprio per quella occasione lì. Un altro piatto tipico delle valli della Tisone è senz'altro lo staccagne che ha nomi diversi rispetto alla frazione dove lo si può assaggiare perché appunto ogni famiglia, ogni area aveva il suo nome, sia il suo modo sia di chiamarlo sia di prepararlo. Si tratta di un piatto di un contorno tipico fatto con le patate e la verdura che in questo caso per noi qui a Tribi Superiore è rigorosamente costituita dalle foglie della rapa. Diciamo le rapide abrovada vengono diradate per permettere alla rapa di ingrossarsi e quindi le foglie non vengono gettate ma vengono cotte e poi usate per appunto pestarle assieme alle patate e condirle con un po' di pancetta e aceto per chi ha piacere. Lo staccagne è conosciuto anche in altre zone, appunto delle valli della Tisone con nomi diversi, la stocchia, il pastone, la staccalza, però diciamo il principio rimane sempre quello. Abbiamo concluso questa visita alla Casa delle Rondini. Io ricordo di averle viste un giorno nel nido. erano lì che salutavano chi viene a Dughe per assaggiare qualcosa seduti sulla terrazza che ha questo panorama meraviglioso oppure d'inverno, perché no, dentro con il calore della stufa ma soprattutto con il calore di Caterina e di Terry, i titolari della Casa delle Rondini. Un saluto è doveroso. Noi ci diamo l'appuntamento alla prossima osteria per scoprire nuovi sapori, per scoprire nuovi profumi, per gustare ancora una volta in una delle nostre vecchie osterie questo grande, grande Friuli. Mandi! Noi ci diamo l'appuntamento alla prossima! 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 Grazie a tutti.